ben ritrovati ben ritrovati a tutti buongiorno da Radio Rosso Nera e obbligo di riscatto eh in tutti i sensi eh un giovedì dodici gennaio del duemilaventidue non tanto per quello che riguarda la classica formula del prestito obbligo di riscatto ma è obbligo di riscatto perché ieri eh dal punto di vista della mentalità dell'atteggiamento della voglia si è un po' raschiato il fondo ehm di qualcosa che il Milan ha mostrato un po' troppo spesso quest'anno che ha fatto vedere già da inizio di questa stagione che qualcuno della squadra l'aveva già fatto notare da inizio stagione e che ancora ha inizio di gennaio ogni tanto si ripresenta e non va per nulla bene tant'è che il Milan ieri sera ha deciso che non si tornava a casa propria ma si andava direttamente tutti a Milanello in ritiro e quindi puntata speciale di obbligo di riscatto Enrico Boiani ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti Milan che ieri perde ai supplementari una zero con il gol di Adopo con un gol arrivato dopo quasi cinquanta minuti in superiorità numerica se metti dentro anche tutto i recuperi vari eccetera praticamente un'ora di gioco in superiorità numerica contro il Torino in casa e per di più quell'ora di gioco arrivata praticamente con quasi la formazione titolare o giù di lì e un atteggiamento del Milan che per paradosso era più ordinato con più voglia con più testa con più gambe nella prima parte quando c'erano le cosiddette seconde linee i giovani un sistema di gioco diverso eccetera 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 poi il Milan cambia entrano i titolari e non si ritrova né sul campo né con la testa però come detto è un problema che ad esempio il capitano di ieri aveva già fatto notare la giornata numero due dopo Atalanta Milan aveva fatto suonare il campanello ma non è stato raccolto ma non è stato mai raccolto questo problema un problema che se ti porti avanti poi ti espone ogni tanto a queste brutte figure perché può capitarti il derby la Champions League la Juventus la Roma e il Napoli dove la squadra comunque vede l'importanza la percepisce e gioca più o meno come ha fatto sempre negli ultimi due anni poi invece la squadra quest'anno pensa che col Torino in Coppa Italia posso provare a fare una partita così con l'Empoli posso provare a fare una partita così cos'ha contro un'altra piccola del campionato tanto sono campione d'Italia a vinco prima o poi e così non vinci mai il punto Simo è che questa squadra speravamo no che lo scudetto e la crescita di tanti giocatori potessero per fare un esempio liberarsi no del di mamma Ibra e invece forse ci stiamo rendendo conto che mamma Ibra non Ibrahimovic in sé ma qualcuno che ti tenga sempre sull'attenti qualcuno che ti che ti tenga sempre sul pezzo concentrato e soprattutto che ti continua a far capire che le cose te le devi costruire che non è che sono dovute o che non è che arrivano schioccando le dita ancora ci serve e questa per me questo per me è il più grande peccato di di ieri e di questo atteggiamento in generale che ha il Milan ultimamente cioè un peccato che non sia che lo scudetto la vittoria dello scudetto non ci abbia fatto fare quello step mentale ma anzi ci stia portando verso la direzione di poca umiltà di di un atteggiamento sbagliato che si è visto ieri sera soprattutto coi coi titolari la partita di di leao di ternandez di dello stesso benasserre di girù chi con più scusanti chi con me o naturalmente per minutaggi vari partite accumulate eccetera è stata immarazzante rispetto a quella degli altri che c'erano prima rispetto i brancs rispetto ai diaz rispetto ai dest che magari hanno fatto qualcosina in più quindi io credo che questo ritiro sia doveroso che possa fare bene penso che sia arrivato anche il momento in cui non so tutti si faccia uno step e con tutti mi riferisco anche alla società che per me ieri deve capire che il livello delle seconde linee che come dicevi tu sono entrate in campo ordinate e ci mancherebbe ma il livello quello era la qualità quella era è uno step anche da parte di pioli che secondo me bastone carota bastone carota va anche bene però uno step per come dire dare una raddrizzata mentale a questi ragazzi per me ci vuole in questo momento perché sennò perdi la bussola in un momento così cruciale della stagione non è positivo no non è non è positivo per nulla ora mi prendo anch'io due tre spunti da ieri come detto tu io pensavo e speravo speravo più che pensavo che la dipendenza di Ibra fosse un po' passata un po' risolta quantomeno ci fossimo liberati da non da Ibra povero ma dal concetto di dover avere per forza una sorta di maestro cattivo ogni tanto quando ti distrae ti bacchetta e no non va bene c'era la possibilità che questa squadra di giovani che vince il campionato potesse intraprendere una strada di crescita e di maturità e invece un po' sta deviando sull'altra strada cioè quella del ho vinto mi credo già arrivato già forte già pronto per vincere col pilota automatico no 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 e lo stiamo vedendo sulla nostra pelle e se lo stanno vedendo loro sulla loro pelle però se ti capitano 5 6 7 episodi durante l'anno dove poca cattiveria sotto porta poca cattiveria a chiudere le partite poca cattiveria da affrontare le gare trascinandole fino al novantesimo ti capitano tante piccole bruciature ora ci siamo anche scottati perché sei uscito dalla competizione te ne può fregare di giusto sì è la coppa italia non penso che ci si strappi i capelli a milanello per essere usciti alla coppa italia ma è il modo di uscire da una competizione che infatti ha fatto sì che prendi e vai tutti in ritiro anche se non viene utilizzata la parola alla fine questo è perché ormai siamo diventati abili anche non utilizzare le parole se una squadra non dorme a casa e va direttamente nella propria sede degli allenamenti va in ritiro e questo è stamattina i giocatori quindi sono già sovegliati a milanello analizzano la partita di ieri sera capiscono che così non si può andare avanti a livello mentale e provano a affrontare la sfida con il lecce in maniera diversa anche perché come detto il lecce campionato punti che possono essere pesanti visto che c'è napoli juve nella stessa giornata e siamo anche a sette giorni da una da un trofeo vero da una supercoppa nella partita secca e quindi da alzare un trofeo quindi non si può assolutamente sbagliare è inutile per me rispetto alla partita di ieri fare nomi onestamente dare le colpe a tizio a caio chi ha perso palla chi non ha rincorso chi non ha fatto magari quello che doveva fare nell'arco di tutti i 90 minuti chi è entrato con sufficienza mi sembra sbagliato perché mi sembra proprio un atteggiamento generale del del gruppo milan mi verrebbe quasi da dirti che invece che gruppo squadra ecco bisogna capire che quello dell'anno scorso è un fantastico inizio perché sennò il rischio di farlo diventare un fantastico unicum eh ma c'è d'altronde le parole di Maldini ieri prima della gara che per chi se le fosse perse le trovate sul sito di radio rossonera www.radiorossonera.it in soldoni ha parlato del mercato di gennaio dicendo che il milan ha scelto di continuare con questo progetto sostenibile in un periodo in cui insomma i conti tra virgolette ve la parafraso molto rapidamente i conti piangono invece il milan è è a posto e continua nella nella via della sostenibilità fanno scopa con le parole di Maldini cinque giorni dopo la vittoria dello scudetto in cui evidenzia due cammini due strade il primo che porta a tre acquisti importanti perché parliamo di acquisti importanti per creare il gap in campionato e competere in Europa o semplicemente rimanere con la via della sostenibilità col progetto che si stava seguendo e rimanere sul livello in cui si era ovvero forti in Italia non molto più forti delle altre e in Europa si fa quel che si può direi che le parole di ieri vanno a confermare questa seconda scelta vanno a confermare anche tante scelte fatte sul mercato vanno a confermare tante scelte di squadra vanno a confermare per quanto mi riguarda anche alcune scelte nel corso della stagione di formazione di Pioli cioè questa squadra non lo so la bolla dell'anno scorso la vittoria dello scudetto l'anno scorso chiamano buttato a volte in positivo il cuore oltre l'ostacolo a volte un po' troppo e quindi pensi di poter rischiare pensi di poter cavartela un po' per presunzione un po' per appunto non lo so non so neanche come definirlo ma pensi di potertela cavare con quel che hai con quello che trovi pensando di pescare sempre il calolù pescando di trovare sempre la mossa tattica perfetta pensando di giocartela da più forte di tutte le altre e quindi non va bene non va bene non va bene perché se è stato fatto un buon lavoro non significa che ci si debba adagiare su quel buon lavoro bisogna continuare a fare buon lavoro Milan quindi che come detto è andato in ritiro Milan che come detto si trova a essere a pochi giorni ormai perché oggi è già giovedì domani conferenza stampa l'ultima prima di riad tra l'altro ovviamente c'è lecce milan e quindi venerdì c'è conferenza stampa a milanello e vedremo cosa dirà il mister a proposito di questo io mi aspetto non una conferenza classica anche se purtroppo credo che sarà così perché tanto anche se le domande vengono fatte non viene data risposta quindi è inutile che ci si aspetta magari chissà che cosa da da questo al di là di tutto quello che ci si augura è che sia arrivato lo schiaffo finale si è arrivata l'ultima sveglia ecco da adesso è suonata l'ultima campanella non si scherza più perché puoi anche scherzare col fuoco in ottobre novembre in dicembre quest'anno no perché non si è giocato ma le amichevoli le abbiamo anche viste e in gennaio poi i punti e appuntamenti non ti aspettano più l'unica cosa che mi ha lasciato un po' così il ritiro è un'arma a doppio taglio per come la vedo io a parere personale proprio o guarisce o crea ancora più problemi o incancrenisce o guarisce o crea il precedente oppure te lo risolve devi essere molto bravo molto bravo perché il rischio è che i giocatori pensino che sia stato dato in pasto pubblicamente il fatto che la colpa è solo e soltanto loro bisogna prendersi le colpe tutti all'interno dello spogliatoio perché se no poi si iniziano a creare malumori e pensieri strani se vuoi proprio il mio parere personale sarei andato a casa ieri e stamattina però avrei ribaltato lo spogliatoio al silenzio di milanello dentro delirio fuori silenzio avrei evitato di fare questa cosa un po più pubblica ecco però sapranno meglio sicuramente loro che questa era forse la cosa migliore da fare però il fatto sta che il milan è andato in ritiro per ieri vediamo se tra virgolette basta oggi e quindi stasera si torna a casa cosa che è probabile oppure si va dritti fino a venerdì non lo so io ripeto sembra da me una punizione cioè hai giocato male stasera non dormi a casa a me sembra un voler iniziare subito da questa mattina lavorare onestamente cioè senza aspettare l'arrivo dei giocatori e quant'altro a me sembra sembra questo quindi anch'io la vedo come un'arma a doppio taglio per questo prima dicevo mi aspetto uno step da parte di pioli perché è arrivato il momento che forse a pioli così non è mai capitato perché comunque anche nei momenti di crisi al milan qualche insomma tempo fa qualche stagione fa non avevi uno scudetto sul petto non era in corsa per quattro competizioni non era il campione in carica e quindi è comunque diverso questo momento arriva in un momento scusate la ripetizione molto complicato perché c'è la supercoppa e c'è la coppa italia sei a sette punti in campionato quindi cioè mi aspetto tanto da pioli perché altrimenti significherebbe non dovessi vedere quel click significherebbe che anche la crescita di pioli è un po' lì capito è a tappo bisogna diventare tutti più grandi in tutti i sensi non il re per una notte bisogna fare i quelli che capiscono che ogni tanto bisogna fare qualcosa di più rispetto a quello che si è fatto in passato perché se no non si va avanti eri noi siamo arrivati in chiusura di questo obbligo di riscatto in tutti i sensi c'è l'obbligo di riscattarsi già con il lecce ma non con il lecce punto perché questa squadra tanto l'effetto rimbalzo l'ha sempre avuto l'abbiamo visto anche in passato poi però nel passato portava avanti la serie rimbalzava per 4 5 6 partite senza dar problemi non si può che prendi la botta in dove e fai bene a salerno la prima ora di gioco che potrebbe essere sopra i cinque gol non va bene perché poi inizi piano piano a ricadere nel baratro devi fare uno due tre quattro cinque partite così per cacciare via questi brutti pensieri che stiamo facendo in questa stagione herry grazie grazie a te grazie a voi vi ricordo di lasciare un mi piace fatelo per piacere per supportarci perché noi siamo in onda anche oggi tutto il giorno commentate qua sotto dici la vostra sia sull'eliminazione di ieri naturalmente ma anche sul periodo insomma cosa fareste voi ecco ipotizzatevi ceo del milan cosa cosa fareste in questo momento da qui alla fine di gennaio per lo meno dai non vi dico vi dico a più tardi ok buona giornata a tutti ciao grazie a tutti